In questi giorni si parla tanto del trasferimento dell'Ufficio del Giudice di Pace nell'ex struttura del Tribunale di Corso Europa. Era stato annunciato nei mesi scorsi che ottobre sarebbe stato il mese in cui ci sarebbe stato il trasferimento, il trasferimento che è stato poi rinviato e si è anche appreso che all'esito di un sopraluogo all'interno dell'ex struttura giudiziaria ci sono parecchie criticità strutturali che impedirebbero un trasferimento in tempi celeri dell'Ufficio del Giudice di Pace che continua invece ad operare all'interno di una struttura che peraltro è in affitto che risulta essere inadeguata. Qual è la posizione dell'Associazione degli Avvocati Giaresi di cui lei è Presidente? Sì, guardi, anche questo è un problema che abbiamo cercato di verificare e per quanto nelle nostre possibilità di risolvere. Allora, so per certo, ma questo lo sappiamo tutti, che il Ministero già da tempo ha dato disponibilità massima al Comune affinché utilizzasse i locali come uffici pubblici comunali. Ovviamente la destinazione naturale del Giudice di Pace è quella perché è rimasto l'edificio con finalità di edilizia giudiziaria quindi il Giudice di Pace andrebbe lì e sarebbe la cosa migliore anche perché, come lei ha detto poco fa, l'attuale sito non è del tutto adeguato, anzi è molto inadeguato. In realtà credo che ci siano dei problemi, però se sono dei problemi economici dovrebbero anche poterlo dire e non fare degli annunci in questo senso. So per certo che dal Tribunale di Catania il Presidente del Tribunale che oggi, secondo la nuova legge di riforma, è il coordinatore degli uffici giudici di Pace sta facendo pressione affinché questo trasferimento finalmente si faccia. Quindi c'è una pressione da parte del Presidente del Tribunale, c'è una nostra, diciamo, fra virgolette, pressione perché anche noi abbiamo necessità di operare in locali adeguati considero, fra l'altro, che in vista della prossima entrata in vigore della riforma l'ufficio del Giudice di Pace diventa un piccolo Tribunale con competenze che saranno aumentate, diciamo, e addirittura sarà con competenze maggiori di quelle che aveva l'apertura e per certi versi anche quella della sezione di staccata del Tribunale. Io personalmente non vado al Tribunale dalla chiusura, non so le condizioni, mi si dice che ci sono infiltrazioni di acqua, mi si dice che devono essere adeguati gli impianti tecnologici però in realtà ad oggi non sappiamo esattamente qual è il problema.